Ha chiesto di intervenire l'Onorevole Bagnai, ne ha facoltà. Grazie Signor Presidente, grazie Signor Ministro per la sua relazione. Io farò un intervento assolutamente notarile per mettere agli atti di questa Camera dei fatti che sono noti. Mi associo peraltro al saluto del pubblico che, anche se non lo sa, è a tutti gli effetti un pubblico pagante. Le famose generazioni future, come mi accingerò a dimostrare per tabulas, non per farli preoccupare, ma affinché siano pronti a ciò che li aspetta da qui al 2058. Facendo però una premessa, e la premessa è questa, personalmente, ma anche come forza politica, abbiamo sempre espresso delle critiche rispetto allo strumento PNRR. Se a una persona viene affidato un compito estremamente difficile e in più gli viene dato uno strumento inadeguato, se io dico che lo strumento è inadeguato non sto criticando la persona, anzi sto indirettamente facendo il suo elogio. E quello che dirò del PNRR e delle difficoltà oggettive che esso presenta come strumento per rianimare la crescita del Paese sono indirettamente, ma esplicitamente, un elogio all'azione di questo Governo che finora è riuscito a trarre il meglio e a raddrizzare, nella misura del possibile, un legno che era visibilmente nato storto. E del resto tutte le critiche che sono state mosse a questo Governo si sono poi sbriciolate contro la realtà dei fatti. Prima ancora che questo Governo si insediasse, mi ricordo che nelle raffinate assise televisive, chiunque osasse dire che si sarebbe dovuto ripensare il progetto, veniva incenerito. Diciamo che come ci hanno provato senza riuscirci troppo, ma comunque la tendenza era quella. Era una bestemmia in cattedrale. Adesso abbiamo visto che su 27 Stati membri, 31 sono state le richieste di adeguamento. Quindi ce ne sono state più di quanti sono gli Stati partecipanti, il che significa che quello che noi chiedevamo lo chiedevamo per lungimiranza e non per disfattismo. Tutta la storia sul fatto che noi saremmo in ritardo sui progetti si sbriciola andando a vedere, cosa che già due volte ho portato all'attenzione di quest'Aula, il monitor che sul sito della Commissione europea è presente sullo stato di avanzamento di Next Generation EU che dice che l'Italia è perfettamente in tabella di marcia. E aggiungo un altro tema, questo pro futuro, visto che abbiamo dato due prove di lungimiranza, aggiungiamo una terza considerazione che forse potrebbe essere lungimirante. Anche questa scadenza tassativa del 2026, i dati ci dicono che noi magari la rispetteremo, ma gli altri no. E quindi verrà chiesta una proroga e verrà chiesta dagli altri. Io non voglio creare qui un problema di moral azar dicendo prendiamocela comoda. Noi ce la prenderemo con la lealtà e l'efficienza, lealtà al patto europeo e efficienza delle nostre imprese, della nostra burocrazia che ci appartiene. Ma poi succederà che gli altri invece allungheranno il brodo. Vabbè, allora, a me quello che piace evidenziare nell'ambito di una discussione politica è sempre il rovesciamento, il ribaltamento delle retoriche. Quante volte ci siamo sentiti dire da quelli che tagliavano le pensioni che non ci sono pasti gratis, i tagliatori, gli austeri, ci hanno parlato di questa assenza di pasti gratis. Quante volte ci siamo sentiti dire che non dobbiamo far gravare le nostre decisioni sulle generazioni future qui presenti, in parte. Bene, sul PNRR la retorica della parte politica che ci diceva queste cose si è completamente ribaltata perché il PNRR ci è stato presentato come un pasto gratis, oggettivamente, come una pioggia di miliardi e anche perché il PNRR è effettivamente un peso sulle generazioni future perché è un debito che, a differenza del debito pubblico, non si prevede che venga rinnovato a scadenza ma dovrà essere ripagato entro una ben precisa scadenza. Aggiungo subito, laddove il Presidente Fontana intervenga perché io, a richiamarmi ai tempi, aggiungo subito un pezzo della conclusione che secondo me è anche un bene che questo debito non venga rinnovato e poi, quando sentirò il campanellino del Presidente, dirò rapidamente perché. Ma qui c'è da fare un ragionamento sul quantum, sul quanto graverà questo debito sulle generazioni future perché questo aspetto qui non è stato, secondo me, sufficientemente messo a fuoco nel dibattito italiano mentre nel dibattito europeo occorre che le generazioni future ma soprattutto quelle presenti, i colleghi, sappiano che un dibattito è stato attivato perché fondamentalmente sono stati fatti alcuni errori di cui il principale, lo anticipo, è stato quello di considerare il periodo dei tassi zero come la normalità anziché come un'anomalia storica il che ha portato a sottostimare gravemente l'onere finanziario dei prestiti che la Commissione europea contrae con i mercati per finanziare Next Generation EU ce lo dice il Direttorato per le politiche interne in un suo rapporto dell'ottobre 2023 il PNRR non è un pasto gratis non è un pasto gratis e chi si è soffermato solo sul guadagno che avremmo avuto sui margini di interesse ha fatto un errore grave ma anche plateale perché non c'è solo il risparmio o il costo, come vedremo, finanziario ma ci sono anche dei costi indiretti per esempio c'è un costo burocratico le strutture necessarie, le cabine di regia tutta questa economia della consulenza che si è resa necessaria e che, diciamo così, ha anche dei margini di relativa parassitarietà secondo me rispetto a cose che si sarebbero potute fare in modo diverso è determinato poi dalla logica dello strumento questo imporre che cosa ci costringe a questo eccessivo perché siamo qui a parlare di queste cose anziché a occuparci di altro perché lo strumento non è concepito benissimo la necessità di imporre le scadenze tassative imposte permettetemi, rovescio la frase le scadenze tassative imposte determinano la necessità di creare delle superfetazioni burocratiche un costo amministrativo esorbitante rispetto a quello che si sosterrebbe con procedure di finanziamento nazionale delle stesse opere pubbliche e, attenzione, questa non è una colpa del governo il governo deve lavorare entro questo schema e poi c'è un costo economico ci sono scelte di indirizzo degli investimenti che non sono appropriate per i nostri paesi questo noi adesso lo sappiamo purtroppo non è stato immediatamente messo a fuoco il punto che anche sotto il profilo per esempio delle rotazioni infrastrutturali come sotto tanti altri profili i paesi europei sono diversi chi segue il dibattito sa che in Germania si usano ancora i fax è venuto a dircelo Wolfgang Bunchau parlando dei gravi ritardi di investimento digitale nel suo paese a novembre dell'anno scorso al convegno dell'associazione Asimmetrie ieri ce lo diceva il Financial Times allora voi capite che invece chi gira per il territorio entra in una piccola e media impresa vede robot, vede informatica questa retorica della piccola e media impresa che non si digitalizza che ha perso il treno della produttività perché non si è informatizzata è una fesseria catastrofica è un diversivo che viene messo nel dibattito che non è supportato da nulla basta pensare per esempio che è un calo di produttività c'è stato anche negli Stati Uniti che sono i campioni della rivoluzione digitale quindi questa storia non tiene e noi abbiamo un asse digitale di investimenti e diamo milioni a comuni per digitalizzarsi a comuni di montagna che già si sono digitalizzati ma non gli diamo quel pezzettino di strada comunale che gli evita di fare tortuosi giri da una parte e da un'altra per raggiungere il posto di lavoro o per raggiungere un posto dove possono essere curati in modo diverso cioè a noi sarebbero servite e tuttora servono e serviranno altre cose rispetto a quelle che servono alla Germania cioè se un paese che non ha ancora il web diciamo incontra un paese che non ha più il fax cioè se la Germania incontra l'Italia e gli consiglia degli investimenti il paese che non ha più il fax è in difficoltà paradossalmente perché è già passato attraverso un certo processo di riconversione e poi c'è il costo finanziario che non va banalizzato perché ci sono minori tassi sui prestiti ma ci sono anche i tassi sulle sovvenzioni perché le sovvenzioni a noi sono state raccontate come fondo perduto ma vengono comunque finanziate emettendo titoli e naturalmente i mercati desiderano che su quei titoli gli sono pagati degli interessi dice sì ma gli interessi in quel caso li paga l'Unione Europea ma scusate allora qua ci stiamo dimenticando un altro mantra cioè quell'Unione Europea siamo noi quei tassi di interesse verranno finanziati dal bilancio comunitario e io ve lo dico perché magari insomma il Ministro Fitto sicuramente lo sa ma il fatto che questo costo finanziario sia stato gravemente sottostimato in questo momento preoccupa la Commissione perché richiederà delle revisioni probabili dell'attuale quadro finanziario pluriennale e soprattutto impatterà sui futuri quadri finanziari pluriennali che lo dico per le generazioni future sono i bilanci della Unione Europea i tassi zero erano un'anomalia evidente ora che questa anomalia è evidente ci troviamo con stime del costo finanziario per interessi complessivo dei 700 miliardi presi a prestito che vanno da un massimo di 410 miliardi di interessi da pagare che quindi dovremo pagare pro quota anche noi a una stima centrale di 221 miliardi che comunque non sono spiccioli e ripeto questi verranno dal bilancio cioè verranno da noi quindi che cosa si prospetta per il futuro? Si prospettano nuove risorse proprie che traduco per i non addetti ai lavori sono le risorse cosiddette proprie dell'Unione Europea cioè tasse che l'Unione Europea impone indirettamente ai Paesi membri quindi le risorse proprie loro sono tasse proprie nostre e chi le tasse ancora non le paga come anch'io all'età di chi non paga le tasse sarà anche disinteressato a questo argomento il tema è che però purtroppo l'età in cui si pagano le tasse arriva sulla retorica degli investimenti produttivi ho già detto e questo è importante perché ci deve servire a evitare un'altra trappola retorica cioè questo governo sta estraendo il massimo possibile e forse anche di più rispetto a un quadro che presenta delle fallace sia nell'indirizzo della spesa che non si è potuto non si è voluto non ci sono stati i tempi c'era tutta questa fretta a tarare meglio sulle effettive esigenze dei nostri territori e rispetto anche a come dire un'impostazione una tempistica che non ci favoriva allora qui vi cito uno degli ultimi rapporti di Goldman Sachs che penso che possa avere un interesse anche perché l'economista è stato responsabile economico del maggior partito di opposizione quindi penso che possa avere ascolto insomma solo l'Europa meridionale ha realizzato più di metà degli obiettivi l'euro aurea del nord è in grave ritardo il contributo agli investimenti è abbastanza irrilevante cioè lo 0,8% di crescita in più che non si avvicina neanche not even close agli ambiziosi obiettivi di sviluppo degli investimenti il PNRR è un non rimedio rispetto al tragico gap di investimenti causato dalla stagione dell'austerità nel 2025 ce lo dice la Commissione europea il recupero di investimenti pubblici rispetto al 2019 sarà per più di due terzi dovuto a fonti di investimento nazionali quindi solo un terzo dovuto al PNRR e non è colpa nostra perché non abbiamo messo a terra perché stiamo mettendo a terra stiamo facendo quello che dicono loro ma non succede quello che dicevano loro succede quello che dicevamo noi e quindi tre cautele per concludere la prima è ovviamente attenzione a quando la realtà presenterà il conto dovremo arrivare lì con finanze solide perché ci verrà chiesto di contribuire a pagare il conto la seconda è rifiutiamo come governo come paese chiedo questo sforzo anche all'opposizione la retorica colpevolizzante tale per cui se poi non ci sono risultati in termini di crescita la colpa è nostra perché noi non siamo bravi perché gli altri sono meno bravi di noi questo dicono i numeri investono di meno crescono di meno realizzano di meno il PNRR il problema è nello strumento non in chi sta usando lo sta usando e attenzione poi a due esiti inevitabili uno è la richiesta di proroga e l'altro sarà la richiesta di rollover cioè di rinnovare questo debito sulla quale io mi limito a fare una considerazione con tutto il rispetto per chi decanta il momento hamiltoniano Hamilton negli Stati Uniti fu quello che rese federale il debito lo dico per chi si è messo in ascolto in questo momento io penso che sarebbe un grosso errore affidare un debito comune a chi sta dimostrando di non essere in grado di gestire una moneta comune grazie Presidente grazie 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 a tutti